Ma scusa fammi capire quindi tu credi nei tarocchi? Da quando ho iniziato a parlare di tarocchi su internet ho perso il conto di tutte le volte che mi sono sentita fare questa domanda con tono decisamente incredulo della serie ma come? Ma tu che sembri una persona così razionale, ragionevole, legge i tarocchi? Sfatiamo questo mito? Ecco io non sono una persona razionale e ragionevole ma al di là di ciò ecco è una cosa che sorprende, sorprende molto dall'altra parte ci sono invece tante persone che credono nei tarocchi e che mi chiedono ma come? Ma tu non purifichi i tuoi mazzi quando inizi a usarli? Ma come? Tu non accendi il palissandro mentre leggi le carte e cose del genere di cui io ignoro l'esistenza? Questo video nasce proprio dall'esigenza di fare una volta per tutte il punto su che cosa sono per me i tarocchi, come li leggo, perché ne parlo su internet, come si possono usare ed è un video che anticipa una collaborazione che avverrà la prossima settimana, quindi restate fino alla fine del video per scoprire di che cosa si tratta comunque vi divido il tutto in capitoli così se vi annoiate potete saltare alla parte che vi interessa tra l'altro c'è stata una sincronicità perché io avevo già deciso di girare questo video in vista della collaborazione della prossima settimana ma nel frattempo ho anche messo un box di domande su Instagram, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate per farmi domande anche voi in cui vi chiedevo proprio che video vorreste vedere prossimamente sul mio canale e qualcuno mi ha richiesto proprio un video sui tarocchi quindi uniamo le due cose, due piccioni con una fava, oggi si parla di tarocchi, spero di non annoiarvi, spero di chiarire per bene che cosa sono i tarocchi per me, come li uso, come li potete usare voi se vi interessa e darvi un po' di inquadramento su questo argomento partiamo da un punto soggettivo che riguarda esclusivamente me, la mia sensibilità, i miei valori ecc 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 ovvero io non credo, ma no che non credo nei tarocchi, non credo in generale non mi viene neanche da definirmi atea perché ateo presuppone già una presa di posizione rispetto a un qualcosa presa di posizione che io nemmeno ho perché mi disinteresso completamente rispetto a tutto ciò che è spiritualità rispetto a tutto ciò che va oltre diciamo alla sfera del sensibile, alla sfera del concreto non ho nessun problema nei confronti di chi crede in qualsiasi cosa rispetto assolutamente chi ha una fede e per la mia soggettiva sensibilità non c'è alcuna differenza tra un cattolico e un neopagano oppure una persona che crede nella lettura dei tarocchi cioè non c'è neanche quella sfumatura tra religione e superstizione per me è tutto la stessa cosa, è una dimensione altra rispetto al sensibile a cui io non credo e a cui io mi disinteresso tendenzialmente perché ce n'è tanto di sensibile di cui preoccuparsi, non so come dire ci sono tante cose concrete e materiali che sono meravigliose oppure orribili e su cui portare l'attenzione per cui non mi viene neanche spontaneo portare l'attenzione a ciò che è invisibile che ne è davan su del concreto per cui se avete una sensibilità diversa dalla mia e credete in qualsiasi cosa non sentitevi giudicati o giudicate da quello che dirò in questo video perché io rispetto tutti purché non la megnate agli altri per quanto mi riguarda potete credere anche alla fatina dei denti non avrò alcun giudizio in merito, né positivo né negativo intorno ai tarocchi nello specifico c'è un po' un equivoco di fondo un equivoco storico e culturale cioè la maggior parte delle persone associano automaticamente lo strumento del mazzo dei tarocchi alla divinazione, cioè all'arte di leggere il futuro per chi ci crede e questo è un equivoco questo è un equivoco perché in realtà ovviamente sì, è vero che molte persone utilizzano i tarocchi come strumento divinatorio ci arriveremo, faremo un po' un piccolo excursus storico dei mazzi di tarocchi ma i tarocchi non nascono così non nascono come strumento divinatorio a quanto ne sappiamo ne sappiamo molto poco ma sulla base dei mazzi storici che ci sono arrivati sulla base delle fonti più vecchie che abbiamo in merito sembra che originariamente fossero semplicemente un'evoluzione delle carte da gioco che stavano iniziando a diffondersi in Europa con l'aggiunta dei trionfi che quindi fossero dei mazzi che servivano per fare dei giochi di carte un po' più elaborati specialmente ovviamente tra le famiglie nobili tra chi era abbastanza ricco da potersi permettere un lavoro come un mazzo illustrato perché all'epoca non venivano stampati in maniera industriale ma venivano realizzati artigianalmente le prime testimonianze di mazzi fatti in quel modo quindi mazzo di carte da gioco con l'aggiunta dei trionfi risalgono al quattordicesimo secolo circa anche se per avere un mazzo che ci arriva intero o quasi strutturato come un moderno mazzo di tarocchi o quasi dobbiamo aspettare fino al quindicesimo secolo perché i mazzi più antichi che ci sono rimasti sono quelli commissionati in Italia dalle famiglie se vi può interessare lo scarabeo ha fatto una meravigliosa riedizione e anche un accurato lavoro di restauro del mazzo più antico che ci è arrivato praticamente completo che è questo qui il visconti di modrone taro ve lo lascio qui sotto nell'info box se vi può interessare tenete presente che all'epoca le carte erano grosse così cioè erano queste tavolozze qui erano un gioco da tavolo praticamente ed erano come vedete miniate dipinte e con anche dei lavori in foglia d'oro e in foglia d'argento quindi erano delle vere e proprie opere d'arte che le famiglie nobili si facevano realizzare per giocarci questo gioco i tarocchi dall'Italia poi si diffonde diventa popolare anche in altri parti d'europa per esempio in francia inizia a venire utilizzato quello che poi diventerà noto come il taro de marseille che è questo qui questa è la riedizione e il restauro curato da jodorowsky ma poi ne parleremo si trattava quindi si ritiene come abbiamo detto di carte da gioco che soltanto intorno al diciottesimo secolo iniziano a venire collegate con la tradizione cabalistica quindi ad assumere anche dei significati esoterici per gli studiosi che si occupavano di questi mazzi ma è soltanto a cavallo tra l'ottocento e il novecento con studiosi come papius per esempio oppure naturalmente con la golden dawn in inghilterra con white eccetera eccetera che i tarocchi vengono definitivamente nell'immaginario collettivo associati alla tradizione esoterica e poi all'adivinazione in particolare avvalendosi dei disegni di una scenografa teatrale pamela coleman smith white fa realizzare questo mazzo il lo smith white rider white smith conosciuto come rws tarot che è il mazzo più utilizzato in mondo anglosassone probabilmente il mazzo più famoso al mondo e anche il mazzo da cui si ispirano anche poi tutti i mazzi artistici contemporanei ci sono state delle altre correnti naturalmente c'è stato alister crowley coi tarocchi di tot sempre nella prima metà del novecento poi questo quindi l'impostazione di fino ottocento prima metà del novecento vede molto i tarocchi collegati a un mondo esoterico e collegati alla divinazione e iniziano a venire utilizzati sempre più frequentemente in quel mondo si trattava di qualcosa di più di divinazione dal loro punto di vista si trattava proprio di viaggi esoterici cioè di una filosofia dietro diversa dalla cartomante che ti legge il futuro chiariamo non sto paragonando le due cose però entrano man mano nell'immaginario collettivo con quella copertina culturale lì in epoca contemporanea la figura più eminente a livello mondiale nello studio dei tarocchi è sicuramente quella di aleandro jodorowsky che anche come molti di voi sapranno un apprezzato regista autore teatrale eccetera io non posso che consigliarvi il suo saggio la via dei tarocchi vi lascio anche quello qui sotto in infobox un libro bellissimo che a prescindere da quello che vorrete fare con i tarocchi vi spalanca veramente degli anfratti del cervello jodorowsky ha un approccio molto diverso rispetto a quello della golden dawn ha un approccio molto diverso rispetto a quello divinatorio e è sui suoi libri che originariamente mi sono formata io ho studiato io e il suo approccio è quello che io condivido praticamente quasi del tutto ecco poi naturalmente ognuno fa i tarocchi in modo leggermente diverso quindi fa anche strano parlare di metodo jodorowsky per quanto riguarda me perché ognuno lo fa in modo diverso ecco però sicuramente è l'approccio a cui io mi sento più vicina tra i grandi approcci rispetto alla lettura dei tarocchi mi sarebbe davvero impossibile sintetizzarvi in un video in che cosa consista l'approccio jodorowsky però proprio per cercare di fare una sintesi il punto centrale è questo i tarocchi non servono a leggere il futuro ma servono per portare il consultante a riflettere sul presente e su un problema presente eventualmente e migliorare il proprio atteggiamento rispetto a quel problema presente quindi non c'è nessuna forza esterna che ti comunica una soluzione a un tuo problema tu hai già dentro di te la soluzione la risposta al tuo problema e nel caso sia qualcun altro a leggerti le carte il ruolo di chi ti legge le carte è pura mediazione per aiutarti a tirare fuori in un processo quasi maieutico ciò che è già dentro di te questo facendoci delle domande domande che si appoggiano su quello che c'è sul tavolo a livello di stesa dei tarocchi in un certo senso una lettura con un'impostazione divinatoria e una lettura con impostazione jodorowsky partono proprio da due presupposti agli antipodi nel senso che alla base di una lettura divinatoria c'è una volontà da parte del consultante di trovare una risposta esterna al proprio problema quindi qualcuno che ti dica che cosa fare qualcuno che ti dica cosa ti succederà e quindi de responsabilizzarti rispetto a quella situazione a quel problema considerare il destino il fatto come ineluttabile già scritto quindi meglio che possiamo fare è sapere già in anticipo che cosa succederà questa è l'impostazione divinatoria più o meno una lettura fatta con metodo jodorowsky al contrario responsabilizza il consultante rispetto al proprio problema perché lo incoraggia o la incoraggia a farsi carico di quel problema ragionandoci intorno non fornisce delle risposte non fornisce delle soluzioni ma aiuta il consultante a capire che cosa c'è nella propria testa intorno a quel problema e di conseguenza come può migliorare la propria situazione rispetto a quel problema quindi non risolvere il problema forza esterna ma lavorare su di te per porti in maniera migliore rispetto a quel problema ora c'è chi in questo processo della lettura jodorowsky ha una fiducia tale da paragonarlo a una seduta di terapia ecco sfatiamo anche questo mito no raga una lettura jodorowsky non è una seduta di terapia non ha niente a che vedere con una seduta di terapia io personalmente credo che i tarocchi potrebbero essere un valido strumento per fare terapia qual è il problema è che affinché questo avvenga bisogna che dei terapeuti si mettano a studiare a standardizzare un metodo perché non può essere ogni volta diverso improvvisato per poi avvalersene dopo aver stilato dei protocolli accertato la bontà di questi protocolli eccetera eccetera per avvalersene in terapia finché questo non accade e che io sappia non non è ancora accaduto i tarocchi non sono terapia anche in quel caso comunque questa terapia sarebbe tale solo se somministrata da un terapeuta non da me che leggo i tarocchi motivo per cui tra l'altro almeno polisimia poi ognuno fa faccia come crede però mio testo punto di vista se ci troviamo davanti a una persona che vuole farsi leggere i tarocchi ma a nostra impressione avrebbe invece bisogno di uno psicologo intorno a quel problema secondo me è il caso di prendere i tarocchi e metterli nel cassetto e dire tesoro no perché credo che se la persona che vuole farsi leggere i tarocchi è in uno stato mentale non di serenità non di equilibrio magari si trova anche solo in un momento particolarmente stressante della sua vita una lettura possa fare più male che bene vi farò degli esempi dopo a questo proposito ma quando si è giù quando si è magari all'interno di certi loop certi pattern rischiano di attivarsi dei giri mentali come il pensiero magico per esempio che secondo me non è il caso di portare in una lettura iodoroschi non è il caso di prendersi questo rischio ecco e questo vale anche per voi stessi e voi stesse se vi fate le carte da soli se state particolarmente male se siete particolarmente stressati e stressate evitate di leggere i tarocchi perché magari invece di farvi bene potrebbe impressionarvi quello che vedete farvi stare ancora peggio l'obiettivo dovrebbe essere stare meglio dopo una lettura di darocchi c'è poi chi paragona una lettura iodoroschi a una chiacchierata tra amici di quelle che vi chiariscono le idee di quelle che appunto vi fanno sentire meglio siamo già più vicini rispetto alla seduta di terapia naturalmente però non è proprio neanche così il consultante e il lettore delle carte infatti possono anche non conoscersi possono non essersi mai visti prima di quell'incontro e la presenza stessa delle carte di uno strumento esterno è come se neutralizzasse un po quella mancanza di confidenza che c'è tra due stranei tu consultante ti senti legittimato magari a tirare fuori delle cose perché le carte quelle immagini te lo suggeriscono ti fanno sentire libera o libera o libero di aprirti anche con qualcuno che non conosce su cose che magari sono poi piuttosto personali quindi quella materia quel problema che magari è una materia molto calda dentro di noi diventa un attimino più distaccato un attimino più fredda quando la vediamo nella stesa e riusciamo a discuterne con più serenità con più lucidità credo che una lettura iodoroschi sia utile assolutamente sì una lettura di questo tipo fatta bene ti ribalta come un calzino è proprio una bella cosa se non l'avete mai fatto io vi consiglio di provare una volta ne vale la pena se se vi capita l'occasione c'è ancora un altro aspetto che vorrei toccare a proposito dei tarocchi ed è la loro potenza narrativa che è l'altro motivo per cui a me interessano tanto volenti o nolenti i tarocchi in particolare gli arcani maggiori sono un viaggio dell'eroe e parlo di viaggio dell'eroe proprio nell'accezione di eroi dai mille volti di camber vi lascio il saggio qui sotto è un saggio che cito molto spesso quindi magari l'avete già sentito a schifo su questo canale però ogni volta io ve lo ricordo ve lo lascio ed è un saggio che si occupa proprio di mito di storia delle storie di narratologia e la struttura degli arcani maggiori dei tarocchi è molto vicina a quella del viaggio dell'eroe teorizzato da campbell noi abbiamo un eroe che nel caso dei tarocchi è l'arcano maggiore numero zero ovvero il matto è il personaggio che si mette in cammino è il personaggio che nasce che inizia la sua storia che ha quell'energia andante del bambino energia andante che diventa in potenza tutto in potenza nella figura del mago del bagatto a cui seguono quattro figure genitoriali negli arcani maggiori che sono quelle spirituali e temporali quindi papessa e papà agli estremi e imperatrice imperatore in mezzo poi c'è il momento della rottura dell'equilibrio e siamo tra l'altro circa un terzo degli arcani maggiori rispettando le proporzioni della struttura in tre atti con gli amanti che è il momento della scelta o il momento dell'entrata nel mondo dello straordinario se queste cose vi suonano aliene scrivetemi un commento cerco di chiarire meglio sono cose che invece suoneranno noiosissime per tanti iscritti e iscritte al mio canale perché ne ho parlato diverse volte quindi non so mai fare la tara sul quanto approfondire poi segue il carro che si mette in movimento nel mondo dello straordinario eccetera eccetera queste tutte queste figure sono figure archetipiche del nostro immaginario di esseri umani appartengono alle nostre storie appartengono oltre che le nostre storie alle nostre vite ai nostri percorsi di vita quindi è molto molto facile riconoscersi in quello che vediamo nelle carte dei tarocchi si prestano proprio per questo motivo molto bene anche alla costruzione di storie scrivere storie con i tarocchi è un esperimento che è stato fatto da diversi illustri scrittori sia italiani che esteri e visto che è una cosa che a me piace molto fare se vi può interessare ho un laboratorio di scrittura creativa proprio destinato a questo che si svolge su patreon vi lascio il mio patreon sempre qui sotto nell'info box ogni mese nel laboratorio a seconda poi del grado di iscrizione che sceglierete si scrivono dei racconti comunque che vengono rivisti da me dal resto del gruppo con delle tracce che do io in un video mensile e degli spunti di costruzione di storia e poi ci sono due contenuti sempre dedicati a storytelling e tarocchi il rapporto tra storytelling e tarocchi uno testuale e un altro che è cartotrame e che è dedicato proprio ad individuare le strutture narrative attraverso i tarocchi cartotrame tra l'altro ce l'avete anche se vi abbonate semplicemente al canale l'unico contenuto di patreon che è incluso anche nell'abbonamento al canale quindi se questi temi vi possono interessare potete approfondire in questi modi ah e tra l'altro scusate poi finisce il marchettone ma questa cosa importante perché me la chiedete sempre ovvero come faccio a farmi leggere i tarocchi da te questa è una cosa che mi viene chiesta spesso ecco io non leggo i tarocchi a pagamento io leggo i tarocchi gratis agli amici quando capita l'unica altra situazione in cui leggo i tarocchi è per chi lo desidera tra gli iscritti al mio patreon negli ultimi due livelli una volta al mese faccio una lettura iodoroschi individuale se lo volete in alternativa alla scrittura del racconto però in quel caso è un modo per ringraziarvi per il sostegno del canale nulla di più proprio per principio io non faccio lettura a pagamento e anche di questo magari parliamo dopo però volevo dirlo qui già che abbiamo parlato di patreon come faccio a farmi leggere i tarocchi da te iscrivetevi a patreon negli ultimi due livelli quindi bagatti amanti quello che preferite con uno vi faccio una lettura scritta con l'altro in videochiamata ora arriviamo alla parte spinosa e alla parte che ci porterà anche al discorso collaborazione di cui vi parlerò a fine video proprio perché i tarocchi sono strumenti sono figure archetipiche così potenti ed è così facile riconoscersi in ciò che rappresentano si apre un rischio cioè che sia estremamente facile crederci per chi crede ai tarocchi in senso divinatorio qualsiasi stesa voi vi facciate su qualsiasi problema dello scibile umano i tarocchi vi daranno una risposta pertinente è praticamente impossibile che vi diano una risposta non pertinente queste figure sono così dense di significato così pregne e così vicine alla reale esperienza umana che è praticamente impossibile che non risuonino con voi e con il vostro problema in qualche modo questo cosa comporta che moltissime volte quando ci facciamo leggere i tarocchi o ce li leggiamo da soli e da sole si crei quell'effetto wow per cui dite minchia che bello ma proprio risposto a quello che volevo precisamente guarda io ho chiesto una domanda relativa che ne so al lavoro e mi sono usciti i denari vedi vedi che proprio bling questi tarocchi sono veramente un point sono sempre un point i tarocchi non possono sbagliare qualsiasi carta vi esca ci sarà una risonanza con il vostro problema maggiore o minore naturalmente ma un aggancio lo troverete sempre che problema etico comporta questo che qualcuno che legga i tarocchi in modo professionale quindi offrendo servizio facendosi pagare la classica cartomanzia televisiva magari ancora lasciamo un attimo da parte il discorso lettura jodorowsky ci sono tante persone che lo fanno a pagamento va benissimo non è un giudizio ma parliamo di cartomanzia divinatoria il rischio lì è che è molto molto facile convincere le persone di avere davvero la capacità di vedere il futuro attraverso le carte perché le carte ci daranno sempre delle risposte pertinenti sono fatte molto bene sono un ottimo strumento narrativo è difficile non vederci qualcosa di pertinente il rischio etico che si apre è che quindi molte persone in difficoltà magari i momenti di fragilità e momenti di vulnerabilità si attacchino tantissimo a queste figure delle delle cartomanti e spendono magari moltissimi soldi per farsi leggere il futuro pienamente convinte che quella stesa parli proprio di loro perché c'è un'entità sovrannaturale che fa in modo che quella stesa parli di loro vi vorrei raccontare una mia esperienza una mia esperienza veramente intensa a questo proposito non so se ve ne ho mai parlato sul canale ma tanti tanti anni fa quando era già da un po che leggevo i tarocchi ma avevo poca possibilità di leggerli a persone esterne alla mia cerchia di amici non facendolo professionalmente allora cosa avevo fatto mi ero aperta un profilo instagram in inglese dedicato ai tarocchi che esiste ancora ma che praticamente non utilizzo più e una volta al giorno tramite quel profilo a chi mi scriveva quindi scegliendo un'unica domanda tra tutte quelle che mi arrivavano nella giornata facevo una lettura di tarocchi personalizzata per un mio follower lo facevo sulla pagina instagram quindi tramite stories non c'erano ancora ai tempi quindi o post testuale oppure stories a titolo assolutamente gratuito quindi sceglievo una domanda a parte che quel profilo nel giro di un mese aveva tipo 3000 follower io non mi capacito quel profilo aveva un successo spaventoso cioè l'avessi usato con costanze del tempo sarebbe diventato enorme e voi mi direte ma perché l'hai mollato sei scema c'era una cosa bella ecco l'ho mollato per un motivo e cioè che era emotivamente davvero pesante ora vi racconto praticamente io lì dichiaravo sempre di leggere i tarocchi con metodo jodorowsky quindi di non avere alcuna capacità né voglia né intenzione di leggere il futuro a delle persone ma di ragionare insieme attraverso le carte intorno a un loro problema il problema è che le persone non si aspettavano questo nemmeno se io lo dichiaravo ricevevo sempre domande per la serie ma il mio ex tornerà da me mettiamo risposta ma che cazzo ne so io non lo so diventerà da lui da quello che vuol fare lui no non è in tuo potere ecco decidere se il tuo ex ritornerà o meno in tuo potere però è invece capire come stai intorno al fatto che non sta tornando e magari perché ci stai male e magari che cosa puoi fare per stare un po meglio no e a questo serve una lettura jodorowsky passare questo messaggio era già difficilissimo era davvero molto molto faticoso dovevo rifare il tippone ogni volta a ogni singola persona che mi scriveva perché sembrava proprio non filtrare questa cosa e inoltre venivi sommerso da una quantità di sofferenza che io faccio fatica a raccontarvi nel senso che mi scrivevano tantissime persone con problemi gravi che fossero mentali oppure che fossero problemi dati da circostanze della loro vita in quel momento gravi lutti cose davvero pesanti davanti a cui io mi rifiutavo di fare una lettura perché sinceramente a meno che una persona non sia un tuo caro amico entrare in cose così dolorose con uno sconosciuto anche attraverso una lettura jodorowsky a me personalmente non sembra il caso non sai dove vai a mettere le mani non sai come stia quell'altra persona non sai come possa reagire magari davanti a una domanda personale cioè finché si resta su light tornerà il mio fidanzato no va bene possiamo leggere le carte ma se inizi si inizi a parlare di lutti di malattie di cose gravi non mi sembra proprio il caso per esempio mi era rimasta molto impressa una persona che mi scrisse perché raga faccio fatica a raccontarvelo perché un'altra persona a lei molto cara era scomparsa ma non scomparsa nel senso che era morta era letteralmente scomparsa persona scomparsa tipo chi l'ha visto non si sa che fine abbia fatto da ormai due anni era una una persona statunitense e la mia follower mi chiedeva una lettura su questo per sapere se questa persona fosse viva o meno lettura che ovviamente non feci ma anche solo ricevere queste domande è un carico emotivo tra l'altro io non riesco neanche completamente a fottermene cioè un po la tendenza alla croce rossa ce l'ho per cui non ti faccio la lettura jodorowsky perché zero non esiste però se mi scrivi che se sei lì per buttarti dalla finestra non me la sento di chiudere la chat e andarmene a dormire serena quindi magari mi cerco il tuo stato disperso americano qual è la linea amica che poi tele ma qui puoi telefonare in quella circostanza e quantomeno ti mando un numero utile cioè faccio qualcosa mi attivo in qualche modo per non voltarmi completamente dall'altra parte no e fare questo davanti a tante persone che ti scrivono ogni giorno è un grosso carico emotivo a cui non ero preparata quando avevo aperto quel profilo è che non mi andava di accollarmi quella roba lì era un po' too much per me tra l'altro poi più belli erano quelli che non mi credevano i più belli erano quelli che non mi credevano quando dicevo che non avevo alcun potere di vedere il futuro tantissima gente mi chiedeva di preparare pozioni incantesimi per loro e io rispondevo na ma io non la so preparare una pozione non ci credo neanche non so fare incantesimi no io non leggo in modo divinato ai terocchi no sono molto lontana da quel tipo di approccio non mi credevano più neghi di avere poteri magici più la gente si convince che tu sia merlino praticamente ti trattavano ancora come quella che avrebbe potuto aiutarli ma non lo faceva perché in realtà i poteri ce li hai io lo so che i poteri ce li hai no ti giuro ti giuro non so neanche farmi un caffè con la moca e poi c'era il discorso soldi perché io frivo questa lettura gratis quotidiana una al giorno ma c'era gente che insisteva per pagarmi cioè per cui farsi leggere i terocchi gratis non era praticabile e almeno simbolicamente mi volevano lasciare 3 euro di donazione su paypal metti solo come obolo simbolico per non ricevere la lettura gratis e mi sono ritrovata in diversi momenti in imbarazzo perché queste persone magari invece di donarmi l'obolo simbolico dei 3 euro me ne sganciavano 40 a caso per farsi fare un'altra lettura diventavano dipendenti dall'idea di farsi fare un'altra lettura cioè c'è un ambiente veramente tossico secondo me intorno alla lettura dei tarocchi e credo che per una persona che non si fa quello scrupolo di coscienza del c'è una sofferenza dall'altra parte voglio mettere una distanza tra me e quella sofferenza quindi aiutarti ma aiutarti dandoti il numero utile non leggendoti i tarocchi ecco sia molto facile molto 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 facile approfittarsene da un punto di vista economico fino a qualche anno fa quando io vedevo che ne so appunto le cartomanti i maghi in televisione no pensavo ma guarda te stai truffatori però quantomeno devono essere bravi in quello che fanno devono avere una certa capacità affabulatoria per convincere le persone di avere questi straordinari poteri cioè devi avere comunque un minimo di talento ecco mi sono resa conto che non è così non è così cioè anche dicendo non faccio magie la gente crede che tu faccia magie perché a volte ci sono delle delle situazioni delle vulnerabilità che portano le persone a volersi convincere di certe cose per avere una speranza ed è molto molto facile approfittarsene se qualcuno intende farlo per tutti questi motivi io alla fine avevo abbandonato quella storia della lettura gratis e progressivamente anche quel profilo malgrado quel profilo sia stato anche fonte di enorme soddisfazione avevo conosciuto un sacco di persone fantastiche sempre americani erano in prevalenza americani i miei follower e le persone che seguivo io gli altri tarot reader erano sì tutti c'era gente di Salem per esempio c'era gente della Louisiana e tanti di loro avevano un approccio completamente diverso da me magari erano di religione wiccan oppure neopagani però come dicevo all'inizio del video io non ho veramente alcun tipo di pregiudizio nei confronti di persone che a differenza mia credono in qualcosa quindi anche con queste persone a chiacchierare io mi trovavo molto bene e penso che ci sia sempre un'opportunità di imparare anche da sensibilità molto diverse dalla nostra quindi che vi posso dire se avete voglia di incominciare un viaggio alla scoperta dei tarotchi fatelo è un mondo veramente molto affascinante molto ricco che vi può dare tanto poi vabbè per quanto mi riguarda c'è anche tutto l'aspetto dell'arte del collezionismo a me piacciono moltissimo i mazzi di tarotchi anche contemporanei anche eversivi moderni ho una collezione di una cinquantina di mazzi e mi aggiorno sempre su quello che esce proprio per un amore artistico per il prodotto ecco ma arriviamo arriviamo invece ricolleggiando al discorso del è molto facile approfittarsi di delle fragilità con uno strumento come un mazzo di tarocchi alla collaborazione che ci sarà la prossima settimana la collaborazione non avverrà su questo canale ma sul canale di joan pilli che vi ho già citato qui perché avevo recensito l'anno scorso su ultimo libro vi lascio qui nella scheda info il video relativo joan è un fact checker che lavora anche per open online e che si occupa anche di debunking di fake news che si occupa di spiegare sul suo canale dico sul suo canale youtube si occupa anche di appunto spiegare le origini di certe teorie del complotto famose da dove nascono e quali sono le fonti scientifiche che smentiscono queste teorie vi lascio il suo canale qui ed è proprio sul suo canale che venerdì prossimo quindi venerdì 21 a partire dalle 9 di sera io sarò in live con joan e con altri amici che vorranno entrare nella live e parleremo proprio di tarocchi anzi leggerò i tarocchi ai presenti proprio con lo scopo di farvi vedere quella cosa di cui parlavo prima cioè di quanto è facile trovare dei collegamenti tra ciò che rappresenta l'arcano nella stesa e quella che è la situazione esposta dal consultante e di conseguenza quanto può essere semplice convincere una persona che i tarocchi siano effettivamente in grado di predire il suo futuro spero che possa essere interessante quindi vi invito a venire ad ascoltare la live venerdì sera come sempre se avete qualsiasi tipo di domanda su questo argomento lasciatemela nei commenti qui sotto rispondo più che volentieri e vi ringrazio per avermi tenuto compagnia anche oggi e noi ci vediamo al prossimo video ciao